I costi sono di bando, la passata amministrazione che ringrazia ovviamente per l'intervento, averlo pensato, ci avevamo pensato anche all'interno del Consiglio Comunale, più a più avevamo sollecitato per grande necessità di dare ai nostri giovani una pista omologata di atleti, 735 mila euro il costo complessivo, di cui 480 mila per opere e per lavori. Diciamo che stiamo seguendo mattina e sera gli interventi, perché ci interessa ovviamente avviare questa attività nuova con una pista omologata FIDEL, anche grazie per l'intervento che tutti gli interessati ai nostri uffici, le maestranze e tutto quanto, stanno portando a termine e preannuncio già che in primavera potremo fare un meeting regionale, se non nazionale, di atletica leggera che davvero darebbe lustro alla città e ovviamente anche a questo impianto che diventa bellissimo. Aggiungo che in itinere c'è un progetto altrettanto importante di 3.750.000 euro di rifacimento delle due tribune, con annessi ovviamente spogliatoi, un ampliamento dell'offerta per i ragazzi che restano lì, insomma per tutte le discipline che possono interessare, non solo il calcio, ma anche per le altre discipline che interessano ovviamente il polo sportivo.